A Palazzo D'Oglioni del Massi il primo appuntamento del progetto per i sociali di Confindustria Belluno. Il seminario verso una società inclusiva e ruolo dell'impresa, che fa parte del progetto Famiglia Fa Meglio, sostenuto dalla Fondazione Cari Verona, ha posto l'accento sull'inserimento delle persone con disabilità all'interno delle imprese, anche attraverso i disability manager in azienda. È il risultato di un sondaggio che abbiamo fatto lo scorso anno, intervistando l'ULS, intervistando Veneto Lavoro, il mondo della scuola, le cooperative e alcune associazioni. Abbiamo tratto la conclusione di un certo tipo di attività da potersi svolgere come associazione di imprese a favore della disabilità in genere. e quindi abbiamo creato dei progetti, il primo parte oggi, finalizzato appunto a creare una cultura del sociale nei soci di Confindustria Belluno. Noi lavoriamo anzitutto sulle imprese, diciamo che poi nel bellunese abbiamo la fortuna che tante imprese sono veramente già dedicate al sociale. Molte magari non lo fanno sapere, però c'è un interesse verso la comunità che è spinto. Probabilmente la nostra attività sarà quella di coordinare meglio gli sforzi e indirizzarli da dove ce n'è più bisogno. Il convegno, trasmesso anche in streaming, è il primo di una serie di iniziative dell'Associazione degli Industriali.